Chiudiamo con il segno dei pesci, per voi invece questa è una bella luna fortunata, una luna che parla d'amore, di affetto, però, c'è un però, Mercurio transita in vergine, transita opposto, quindi significa che tutte le questioni economiche, finanziarie, tutto ciò che ha a che fare con il lavoro, il denaro e le decisioni che riguardano la sfera lavorativa possono in qualche modo crearvi degli imbarazzi, perché diventerete un po' pasticcioni, perché non sarete lucidi, perché vi lasciate condizionare anche da quello che è il giudizio degli altri e invece dovete imparare a ragionare solo ed esclusivamente con la vostra testa. Non è il momento ideale per fare delle scelte definitive sul lavoro, molto bene invece per chi cerca un aiuto, per chi cerca un socio o un alleato.